Musica Salve e benvenuti in questo vlog Io sono il signor Maturo e sono il Cuocofolle Oggi voglio fare un piccolo video dedica Vi ricordate la collaborazione che feci con Frank Frank? Bene, voglio fare un altro video dedicato a questo mio caro amico E ora scoprirete il perché Per chi si fosse persa la collaborazione tra me e Frank Frank Qui nelle schede vi lascerò il mio video Giù in descrizione invece troverete il video di Frank Frank Bene, adesso passiamo al succo del video Allora, già in passato Frank Frank aveva aperto un piccolo vlog Dove si tenevano vari tornei Infatti, se ci avete fatto caso Nella descrizione dei miei video di cucina Ho sempre messo questa stringa di testo con un link Parlando appunto di questo vlog di Frank Frank Di recente ho deciso anche di aprire un piccolo shop Adesso ci sono pochi articoli Magari in futuro ce ne saranno tanti altri Dove vende pari souvenir Ci ho voluto dare un'occhiata E devo dire che è abbastanza interessante C'è per esempio una tazzina Tazza per fare colazione, bere il tè, cioccolata Una mascherina, un cuscino e un pantalone Quattro cose però devo dire Nei articoli abbastanza carini Anche a prezzi piuttosto abbordabili Io vi consiglio di andare a darci un'occhiata Perché merita E' abbastanza interessante Magari volete comprarvi una mascherina un po' più particolare Una tazza un po' speciale per fare colazione Un cuscino sfizioso in più per dormire Un pantalone Ci sta Devo dire visitatelo perché veramente Per come la vedo io merita E sono articoli abbastanza interessanti Poi fatemi sapere voi che ne pensate Bene, con questo direi che posso concludere Non c'erano molte informazioni E erano quelle piccole informazioni Una piccola dedica a Frank Frank Un caro amico con cui ho fatto anche delle live in passato E secondo me è un bravo ragazzo E merita molto Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere cosa ne pensate Nel caso vi lascio giù in descrizione il link del suo canale Anche a fine video vi lascerò il suo link Il link del suo canale Visitatelo, fatemi sapere Noi ci vediamo dunque al prossimo video Ricordatevi che se vi sembra buono Mangiatelo Noi ci vediamo dunque al prossimo video Noi ci vediamo dunque al prossimo video Noi ci vediamo dunque al prossimo video Noi ci vediamo dunque al prossimo video